4 bello bello sessandrone allora ho deciso di venire stamattina vieni di steccio com'è fischia allora cosa raccontate beh mi stronzo lì io adesso non mi sto giocato quattro volte no bimbi io mi cavo troppo addosso eh vieni dai racconta racconta dici un po' dici l'interrogazione meccanica no non dici l'interrogazione latino o non c'è un cazzo ma che dici latino o allite è come la sopa testa di azzo ti dico che c'ho un latino eh ma anche la sopa non c'è eh 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 io però opero un branco uguale eh 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 davanti alle magistrali basta andare lì col booster oh sandro senti un po' la cosa dimmi che cazzo hai detto scusami nulla era uno scherzo vuole veramente una figura oh aspettate